Non bisogna dubitare mai che l'uomo di strada, l'uomo qualunque, sia in grado di meditare o possa imparare a farlo, a raggiungere un minimo di consapevolezza, a approfondire molto questa consapevolezza, magari anche in un periodo breve o lungo, ognuno ha i suoi tempi ed è giusto che faccia i suoi passi, indirizzato su una giusta strada, che possa arrivare semplicemente a raggiungere il suo proprio vero sé e ad attingere quotidianamente quando vuole a energie universali positive in maniera verso che infinita e arrivare a capire di avere certi poteri di co-creazione sulla sua propria realtà. Non ci vedo nulla di strano, sarebbe strano pensare al contrario, pensare che chiunque non possa farlo, ma perché? È l'esperienza della quotidianità, è giusto ed è bello che si impari sempre di più, anzi, che magari un giorno venga insegnato in tutte le scuole. Grazie a tutti!